Tutti, benvenuti a questo nuovo video! Cosate se non è così, ma è stato un incubo preghissare questo video! Comunque sonniamo noi! Benvenuti a questo nuovo video! Oggi vi parlerò dei miei hobby Cosa mi piace fare? La prima cosa di cosa mi piace fare è fare i video su YouTube Adesso ogni tanto faccio anche video su TikTok ma non sempre Altre cose Perché mi piace sul... Ah no! Perché mi piace fare video su YouTube Che posso parlare da solo Perché con qualcuno non riesco a parlare Per cui con YouTube libero poi i miei pensieri Comunque tu lo obbligo Parlo un po' di me Ehm... Invece l'altra cosa che è il secondo posto è... Cantare! Ehm... Sì... Ogni... Ogni tanto... Con YouTube... Caldicchio E per quello ho... Ho deciso di... Creare... La... 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 La rubrica... Una parola cantata Perché mi piace cantare E... Ogni tanto mi piace scrivere le canzoni Dei brani... Dei brani però... Destino a canzoni... Perché... Non so suonare le strutturemento E poi... E' un... E' il mio modo per... Liberare... Liberare le mie idee Mi piace... Ripingere... Che forse tornerà... Sì... Tornerà... Corollerandia... In un format dove faccio tutorial... E... Le mostro... Le cose che... To... To... To facendo... Cose non mi piacciono... Fare... Uscire... Ma... Grazie... Il YouTube... Esco perché... Grazie... I vlog sono costretto... Forse... Di cose... Di... Uscire... Della mia... Tana... Che è... Quetta camera... Qui... E... Poi che altro... Ah... Cosate... Non si vedeva la faccia... E... Nient'altro... Ho il mente... Cosa mi piace... Qua è Orbi... Oh... Ah... Sì... Stubido... Nuoto... Sono troppo stubido... Nuoto... Faccio... Faccio... Nuoto... Off... Faccio... Faccio... Nuoto anche le gare di vuoto... Che si chiamano... Perciolimpic... Che ho... Dimenticato... Fare un video... Dove mostro le medaglie... Ma... Ci saranno anche il prossimo anno... Le gare... E... Anche l'altra cosa... Mi piace mangiare... Niente... Tutto qui... I mio... I miei... Hobby... Quindi... Se il video... Vi è piaciuto... Mettete... Like... E... Che vedetevi... Al mio canale... E... E... Un'unica cosa... Devo dire... Se la vostra vita è grigia... Solidete... Perché avete... Una vita a sola... Ciao... Alla prossima...